L'Inter a preso Lukaku non mi interessa, è una trattativa strana, una trattativa rosca. L'Inter ruba, l'Inter ruba e noi siamo più forti, abbiamo dimostrato, abbiamo preso Lukaku rubando, però Giroud è più forte di Lautaro, Origi è più forte di Lukaku, Kunice è più forte di Potovic, siamo più forti, siamo più forti e l'abbiamo dimostrato, siamo più forti e l'abbiamo dimostrato, e noi siamo più forti, siamo più forti e dimostrato perché siamo dei leoni, siamo dei leoni che hanno la fame di mangiare e tutte le mattine ci alziamo con questa fame di mangiare.